Una grande passione è sempre all'origine di una grande impresa sportiva, anche quando non arriva la medaglia d'oro. La discesa libera dei campionati mondiali juniors di sci alpino sulle nevi francesi di Chatelle ha confermato il talento di Gregorio Bernardi, finanziere cresciuto agonisticamente nello sci club sestriere e nella squadra regionale del comitato Fisi Alpi Occidentali. Gregorio con la sua medaglia d'argento ai mondiali juniors ha portato avanti una grande tradizione di famiglia. Gregorio la tua è una vita dedicata allo sci e con dei bei risultati una medaglia d'argento ai mondiali juniors, ma quanto è servito l'esempio del nonno, il nonno che ha partecipato alle Olimpiadi? Diciamo tanto perché soprattutto quando eravamo più piccoli è lui che ci portava sulle piste, quindi tutto sommato è lui che ci ha fatto iniziare e adesso posso dirgli grazie. Tu hai fatto una scelta di vita, ti sei dedicato o ti stai dedicando completamente allo sci? Sì, diciamo che tutti i giorni ci sacrifichiamo perché comunque tra allenamenti, viaggi, essere sempre in giro, non è una vita, è una bella vita ma impegnativa, quindi ti deve piacere. Quanto è importante per andare avanti nella vostra carriera sportiva essere in un gruppo militare? È molto importante perché al di fuori della squadra nazionale, quindi quando un atleta è al di fuori della squadra, comunque il proprio gruppo sportivo è la propria famiglia perché ci si allena con loro e si fa tutto con loro. Qual è il ricordo più bello di te, bambino, che inizi a fare le gare con lo Sciclops Estriere? Beh, sicuramente le prime gare sono le più divertenti perché non pensi ancora al risultato, alla performance, ti diverti e basta. Il tuo sogno nel cassetto dopo una medaglia d'argento ai Mondiali Juniors? Beh, rimane quello di sempre, andare a vincere le Olimpiadi. Era il 1968 e Bruno Piazzalunga, il nonno di Gregorio Bernardi, partecipava alle Olimpiadi, undicesimo in gigante, un ricordo bellissimo e un'esperienza poi portata al nipote. Ma se fosse così facile trasportare le esperienze, comunque sì, sì, come ha detto anche lui, che abbiamo iniziato tutti insieme, facevamo anche le giornate di tutta la famiglia in sci. Gli ha dato qualche consiglio quando è entrato in nazionale e ha iniziato a concorrere nelle FIS, in Coppa Europa e in questi Mondiali perché ne ha già fatti due? Credo che ne abbia già troppi di consiglieri, quindi mi astengo. Maurizio Ponce è il direttore dello Sciclops Estriere in cui è cresciuto agonisticamente Gregorio Bernardi. Quanto è di esempio per i bambini, quelli che voi portate, iniziate a portare sulle piste e iniziate ad accompagnare verso l'agonismo? Beh, tantissimo, tantissimo, ma anche tutti i nostri emenatori prendono Greg sicuramente come un esempio. Lui da noi è arrivato da cucciolo, ma gli piaceva la velocità. Qualche volta ci ha fatto penare, nel senso buono. Ti racconto un anedoto. Allora, andiamo a fare i campionati regionali a Mera e chiaramente in trasferta siamo lì in albergo e loro nel pomeriggio, diciamo che oltre poi a fare l'attività di preparazione magari atletica, di andare a fare riscaldamento, hanno anche del tempo libero. Allora, Alessandro Giordano, che allora lo allenava, mi manda un video con due che si tuffano nel Sesia a febbraio. Quindi c'era Gregorio e Denny Xepa, che è un altro nostro ex atleta, atleta tuttora, che si sono tuffati nel Sesia. Allora, quando è così io magari subito ti arrabbi, poi alla fine però ti viene anche da sorridere perché non è da tutti, no? Io credo che sia un esempio che va veramente seguito, aiutato e portato avanti anche nel contesto generale delle montagne olimpiche e dell'AOC come Piemonte perché effettivamente le qualità ci sono, lui è bravissimo, la sorella è bravissima, insomma c'è una famiglia di campioni attorno che ha seguito le orme del nonno Bruno ma c'è anche, credo, dei grandi sacrifici fatti dalla famiglia che secondo me tante volte non vengono presi in considerazione. Comunque il Comune ha stanziato 80.000 euro per i ragazzi residenti che fanno attività agonistica. Non credo che molti comuni in Italia l'abbiano fatto e è intervenuto anche per abbattere al 50% il costo degli ski pass, quindi credo che effettivamente un passo è fatto, sicuramente oggi come oggi, primo per i risultati, secondo perché dobbiamo aumentare ancora il contributo, la finalità è premiare i migliori, premiare le famiglie che fanno più sacrifici per allenamenti estivi, invernali e per portare questi atleti a quel livello ci vogliono veramente tanti soldi investiti. Se vogliamo avere tanti Gregorio che dobbiamo cercare di aiutare le famiglie, i singoli a raggiungere i risultati.